8 e 32 minuti e siamo arrivati al momento del nostro ospite della giornata. Chi è l'ospite della giornata di oggi? Walter Cherubini, Presidente Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori. Ben ritrovato per Milano News e ben arrivato invece su Christian Radio. Partiamo. Quante puntate siamo su Milano News ormai più o meno? Siamo oltre 150. 150. Raccontiamo, 150 puntate in cui mi ho raccontato che cosa? Abbiamo cercato di porre un'attenzione costante, settimanale, dal punto di vista della comunicazione e dell'informazione sul tema delle periferie. Periferie urbane. La sottolineatura periferie urbane perché? Perché l'MIT di Boston ha calcolato che ci sono oltre 200 utilizzi diversi del termine periferia. In tutto questo bailame, le periferie infatti rimangono periferie perché si vede che non ci si intende molto. Noi fissiamo il termine periferia urbana. Periferia urbana che è quella di una grande città, una metropoli magari seppur piccola come Milano, ed è quella fascia, per esempio a Milano, che va sostanzialmente dai confini comunali alla cerchia della 90-91. quella cerchia della 90-91 che nella sostanza si sovrappone agli antichi comuni milanesi aggregati cento anni fa che vuol dire Musocco, vuol dire Niguarda, vuol dire Baggio, vuol dire Lambrate. Vuol dire Vigentino, vuol dire Chiaravalle milanese, vuol dire Undici comuni, vuol dire Greco, vuol dire Trenno, vuol dire Gorla Precotto. Ricordiamoci anche Turro che è stato comune autonomo fino al 1918. Ce lo perdiamo sempre, lo ricordo una fermata della metropolitana. Ecco, in questo scenario noi abbiamo cercato di porre all'attenzione non facendo una, diciamo così, narrazione delle periferie, ma ospitando una serie di persone, di associazioni, che agiscono sul territorio e quindi è un'occasione per loro per raccontare alla città quello che fanno, perché uno dei problemi fondamentali di Milano è che Milano non conosce Milano. E lo diceva, tu dici un esempio importante, perché lo diceva qualcuno già un qualche centinaio di anni fa, giusto? Sì, diciamo più di qualche cento anni fa, abbiamo bisogno dalla riva, non solo gli stranieri, ma anche i miei concittadini dormono... Il 1200, cos'è che era? Il 1288, e nell'occasione in cui scrisse le meraviglie di Milano, o meglio, la magnificenza di Milano, poi abbiamo tradotto le meraviglie per non essere troppo bauscio, diciamo così, e quindi disse, non solo gli stranieri, ma anche i miei concittadini dormono nel silenzio dell'ignoranza e non conoscono le meraviglie di Milano. Quindi, il tema di fondo è che se uno si trova in una realtà dove sta bene, sta bene, ma non sa nemmeno che ci siano quelli che magari stanno male, e quindi anche quel che rimane, guardiamoci in giro, non è strutturato per essere esercitato. Non vorrei dire una cosa difficile, ma se io non so che uno sta male, come faccio? Ma se non so nemmeno che esiste, per quello che, legandomi un attimino anche al discorso, del centenario, il centenario degli antichi comuni milanesi, 14 dicembre 1923, data sconosciuta a tutti. Per Milano è una data fondamentale, perché passa da 76 chilometri quadrati a 181 chilometri quadrati, più che raddoppia. Potremmo dire quasi che è il compleanno della nuova Milano, quel giornalino, perché proprio nasce la Milano che conosciamo noi adesso. Quella che fu ipotizzata come la grande Milano, ai tempi, nel 1923. Però c'è un passaggio di 50 anni, dal 1873 al 1923. Nel 1873 che cosa avvenne? Che l'allora comune di Milano, che è il centro, grande, 9 chilometri quadrati, sindaco Belinzaghi, prende e aggrega il comune dei Corpi Santi. Corpi Santi. Una ciabella intorno con, diciamo così, una sciabolata che va giù verso il grasso soglio a sud, tanto per intenderci. E quindi da 9 passa a 76 chilometri quadrati. Allora, focalizziamo il sindaco Belinzaghi. Poi da 76 annette poi nel 1923 anche gli altri comuni e diventano quanti chilometri quadrati? 181 chilometri quadrati. Allora, adesso noi abbiamo i tempi radiofonici, dobbiamo ascoltarci un brano, ma vi lasciamo con questa domanda. Come faceva il primo sindaco a gestire da Palazzo Marino? Quanti ne gestiva? 9 chilometri quadrati. Poi va bene, gli hanno aggiunti qualcuno, siamo arrivati a... 76. E poi, infine... 181, che questi sono quelli diversi. 181, ma sempre lui, diciamo, il signor sindaco, era sempre lui, il Shur, che stava lì a Palazzo Marino e doveva gestire tutto questo, tutto questo popò di città. Torniamo invece alla nostra città, alla nostra Milano, insieme a Walter Cherubini, presidente della consulta Periferia Milano. ci eravamo lasciati appunto che il sindaco, nel 1800, dicevamo... 73. 73, si vede moltiplicare quasi la sua città, così, pum, del doppio, e poi nel 23 diventare quasi una metropoli, cioè una megalopoli, anzi, nel 1923. Ma diciamo nemmeno grossissimo, perché Milano non è mai stata in questa anche logica circolare, diciamo in questa maniera. e allora il sindaco Mangiagalli, senatore della Repubblica, ma come anche il precedente sindaco del 1873, Bellinzaghi, si trova ad affrontare una condizione gestionale che va da 76 a 181 km2. Allora, quali sono le modalità gestionali anche? Ecco, il problema è proprio di questa natura. Con il 1923, 14 dicembre, una data sconosciuta, quindi esiste un problema didattico, cioè non è insegnato, c'è un periodo di storia. Noi abbiamo fatto, proprio in occasione di questo centenario degli antichi comuni milanesi, che di converso sono i cento anni delle periferie, perché cento anni fa c'erano i comuni milanesi. Poi sono stati aggregati, soppressa l'amministrazione comunale locale di Musocco, di Baggio, eccetera, quindi dove avevano un'amministrazione che era dedicata a quel territorio lì. L'amministrazione lì è stata smantellata, tutto quanto era di propria competenza è andato a Palazzo Marino. Allora, c'è un problema quando si dice amministrazione vicina e amministrazione distante. L'amministrazione è andata a Palazzo Marino e quindi, come si sente ancora un pochettino dire, devo andare a Milano. Ecco, per risolvere i problemi del mio posto devo andare a Milano, che non è distante in termini fisici, oggi come oggi poi, metropolitane, il problema è che si concentra tutto in centro, il centro ad alte priorità. Quindi, se Milano, oggi è Milano, vuol dire che quelle scelte che sono state fatte nel 1873-1923 sono state delle scelte complessivamente positive. Nello stesso tempo, però, per cui c'è una Milano attrattiva, noi dobbiamo un attimino anche andare, ed è l'attenzione che ha consulta per i ferie Milano in questi 18 anni di attività, la città abitativa. Ok. Una città per i milanesi, una città per quelli che a Milano ci vengono a fare altro. No? Più o meno. Può essere anche questo, però questo qui è uno dei termini di fondo proprio, perché il problema non è tanto poveri e ricchi, in primo luogo. La distanza porta anche a una disattenzione e quindi anche un abbandono. Quindi noi abbiamo una situazione, San Siro è uno dei quartieri che sta entrando un po' sotto la lente di ingrandimento, però quando noi diciamo San Siro, possiamo dire San Siro Sud e San Siro Nord, tanto per intenderci. Qual è la distanza tra questo San Siro Nord? Cento metri sono lineari? Ecco, allora uno va, ci sono i quartieri popolari che sono un problema, cioè la gestione pubblica dei quartieri non è adeguata, ma non è adeguata proprio come tema organizzativo, lo dice anche il professor Balducci, che è stato prorettore del Politecnico di Milano, ma anche per un periodo assessore all'urbanistica del Comune di Milano, dove dice che l'organizzazione è ancora rimasta ai tempi che furono legata alle competenze, alle piante organiche, cioè è cambiato tutto il mondo la modalità di organizzare l'amministrazione e quella del 1872. Funziona così il meccanismo? Qualcosa forse va cambiato. È tutto centralistico, tutte le organizzazioni aziendali, hanno un'organizzazione che è diversa, c'è da imparare. Allora, adesso poi ne parliamo ancora magari di qualche idea, di qualche punto voi l'avete sviluppato in questi anni, per riferirmi a noi c'è da dire che effettivamente questa lontananza delle istituzioni spesso e volentieri si sente, si fa sentire e rende tutto un po' un inferno. Pensa che sentivo nel radio c'era una professoressa che iniziava a Verona e ha detto proprio no, sì, facciamo e noi nel programma scolastico abbiamo una parte di storia della città. Infatti arriviamo fino alla Verona romana, cioè spiegano man mano, ma collegandosi, parliamo dei romani, a Milano ci sono stati romani, parliamo anche della Milano romana. Allora, il tema è di questa natura dove didatticamente parlando diciamo che la scuola deve dare attenzione al territorio. Il problema è che se uno sta all'ambrate dà attenzione all'ambrate e non si conoscono. Cioè sono città che non sono permeabili. Ognuno rimane nel proprio angolo. Invece ci vuole una permeabilità. Allora, siamo arrivati quasi alla fine, ma siamo arrivati alla fine del nostro intervento qui insieme a Valter Crubini. Valter, però, punto. Chiudiamo. Allora, questa problematica della... Allora, qualche declinazione operativa. Benissimo. Innanzitutto, Consulta Periferia Milano che nasce nel 2005 promossa da una serie di associazioni che oggi sono 44 quelle che hanno fatto attività. Attività di che cosa? Innanzitutto di far incontrare la città, di rendere permeabili tutta una serie di individualismi disciplinari. ci sono gli architetti che si occupano dell'architettura, gli ingegneri dell'ingegneria. Invece bisogna mettere insieme le cose. Il mondo dell'informazione istituzionale. Per fare questo abbiamo promosso più di 200 convegni, seminari, dove abbiamo invitato più di 500 relatori perché ci è da imparare innanzitutto. ci sono tantissime persone che fanno cose, docento universitario, associazioni e quant'altro, ma il problema è che questi mondi non sono permeabili. Soprattutto non sono permeabili a livello cittadino, a livello territoriale magari si fa qualche, diciamo così, rete, ma non è adeguata ad affrontare il tema della città. In secondo luogo, oltre agli incontri, anche delle attività, diciamo così, di animazione e valorizzazione. Abbiamo promosso più di 800 concerti ad ingresso gratuito. Oggi come oggi andiamo avanti con le rassegne Cori Milano. Abbiamo un gruppo di 40 cori amatoriali, mille persone che si sono resi disponibili a cantare. Informazioni di varie cose ne avete sul sito periferiemilano.com che è soprattutto per un sito di documentazione per vedere quanti teatri ci sono nella periferia di Milano. Fuori dal centro ce ne sono 109 tra amatoriali e professionali. Si dice bisogna portare la cultura in periferia. No, il problema è che noi abbiamo un paradigma dove il bilancio della scala fa 130 milioni di euro. Quello del comune di Milano ha 90 milioni di euro. Gli otto municipi periferici hanno mezzo milione di euro. Questo è il tema. Seconda questione didattica. Didattica stiamo facendo tutta una serie di conferenze. Abbiamo incontrato più di 4.000 persone nelle biblioteche, nelle associazioni, in vari posti. Ecco, chi vuole ospitare delle brevi conferenze di 40 minuti proprio per imparare questo aspetto geografico-amministrativo che è sconosciuto. Due cose fondamentali. Periferie ogni tanto sono come una carsicità e quindi se ne parla poi no, le periferie non esistono. Adesso si dice quartieri secondo il comune. Allora, i quartieri sono anche periferie. Sono un di cui delle periferie. Poi ci sono i quartieri del centro, Brera, eccetera, il quadrilatero della moda. E poi c'è il quadrilatero della moda del quadrilatero di San Siro che sono tutti e due probabilmente quartieri però da affrontare in maniera diversa. Quindi, un appuntamento il mercoledì 27 marzo alle ore 17 al negozio civico Chiamo a Milano facciamo un convegno che è un po' di lancio, di riproposizione dalle periferie per ripartire invitando tutta una serie di realtà proprio perché si devono parlare assieme. Lo vedo qui, il mercoledì 27 settembre alle 17 dalle 17 alle 19 a Chiamamilano dove incontreremo. Ecco, ci sono state due cose secondo noi significative. Uno che è stata la Milano Arc Week su Around Periferis quindi Comuni di Milano Triennale Politecnico di Milano hanno ripreso a ricentrare il tema delle periferie. Il 6 ottobre invece a Bergamo Brescia la Fondazione Bracco farà la quarta conferenza nazionale sulle periferie urbane. Ecco, noi ci inseriamo in questo 27 e poi rimandiamo agli incontri a scuola di periferie ma ne parleremo successivamente. Ma ne parleremo successivamente perché? Perché non è che ci saluti e non ci vedi mai più anzi, tutti i martedì tu Walter sarai qui ospite con noi per parlare con questo focus sulle periferie. Ecco, con una cosa interessante l'ultima le giornate periferie Art Me del 15 17 adesso di settembre terza domenica di ogni mese giusto? Terzo fine settimana di ogni mese ci sono più di 20 appuntamenti per conoscere questi 166 toponimi che compongono la grande Milano attraverso i benartistici architettori periferiemilano.com giusto? Allora periferiemilano.com oppure periferiartme.it grazie mille Walter Crubini a martedì prossimo Oh